Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video della serie di Brawl Stars Oggi ragazzi manca veramente poco per arrivare a 15.200 trofei Manca sempre, sempre meno ragazzi Oggi come ho detto, il titolo visto dalla miniatura andremo a portare ragazzi un bel brawler al grado 15 Questo brawler non sarà Bibi Ho deciso di nuovo, anche se qua ragazzi, vedete che ci sfongono sempre questi premi Non sarà Bibi, ma ragazzi sarà un altro brawler Vabbè, Bibi anche è un bel brawler ragazzi Oggi portate un Mortis al grado 15 ragazzi in questo video Quindi manca poco e speriamo di fare qualche bel Sincero ragazzi, vorrei fare anche qualche win se è possibile Vediamo un po' la reazione alla fine di questo game Non stacco il Bibi fino a quando ne avrei mangiato 15 eh Guarda, guarda, guarda come asce lì come arriva subito E' molto pazzo ragazzi Perché, perché c'erano con me Bravi, perché ti fai di voi Facetimi fuori me da questi litigi Faccio un bel corvetto Buon ragazzi che non c'è merda eh Perché a me lo tipo, veni vicino e fai un boda di danno Io me lo ucciso Cioè, vedete, io non rompo A nessuno Però, giù le mie rompe Scala ulti secondo me Sta cacchio di ulti Guarda, lo sapevo vecchio Lo sapevo Ma ragazzi, il problema E' che sta mappa, no? E' troppo Cioè, ti hai preso di campionare poi, no? E lui dice che uno sa rabbia vecchio Che uno sa rabbia che ragazzi ti perde da questo qua, guarda Eh, purtroppo ragazzi non... Quando è così... E questo è il gadget, ragazzi Il gadget è fondamentale Eh, guarda, vecchio Eh, vecchio Sto cazzo di brawler di merda, guarda Venti, poi c'è Piper Eh, Piper rompe le palle Piper rompe le palle Ah, credo che non è la cosa Ma è perché ragazzi così è troppo... Cioè, hanno messo troppi power up In una zona molto piccola Sono un pazzo, ragazzi Buono Buono Ma non mi va il corpo, cioè Eh, vecchio Faccio la merda, dicono 8 Se voglio incontrare questi due, ragazzi Si incontrano questi due affatto 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 Ho curato la prova No, che cazzo va dopo di... Si incontrano questi due affatto Si incontrano i due affatto Eh, vecchio Non c'è niente Se c'è il problema Questo è 9 Questo è molto roba Eh, vecchio Mamma mia, vecchio Mamma mia Mamma, vecchio C'hai 200 cazzo di robe Come fai? Non lo so Comunque, ragazzi Soia Dei 15.200 Mamma mia Mamma mia Mamma mia, ragazzi Mamma mia Bello, bello, bello Bello, bello Bello, eh Questo è bello E già, ragazzi La prima top 2 Top 2 A me, ragazzi Non dispiace, sincero Comunque Sempre top 2 Non è mai Non sono bot Quindi comunque Sempre un posto merita Top 2 Vente sotto anche tante coppe Qua, secondo me È il peggior posto Dove spawnare, ragazzi Perché c'hanno troppe Qualcamerate Quindi spettori Che dico un attimo, ragazzi Poi se mi vengono a pushare Me ne avevo così Vengono a pushare Gli altri Eh, purtroppo, ragazzi Sta mappa è così Sta mappa è molto Molto camper Purtroppo, ragazzi Deve non sistemare Cioè L'ascoltatino Non è molto più giocabile Più fattiva Adesso no, ragazzi Adesso no Adesso no Non è la 30 Abbiamo fatto Se prima ti metto una mappa Adesso è senza sti cazzi Di cover up Che veramente rompono No, io non mi dico C'è Iris Allora, Iris A7 Vecchio Ragazzi, Iris Devasta con due corpi Ha pushato 7 contro 1 Iris Ah, io non provo Ma Eh Sì Guarda come camper No Vecchio me la camper Cioè Vecchio Togli 2.000 Sta cazzo di Is Cioè Ma È sempre la stessa storia Ragazzi Vengono sempre Profite molto Molto Mosh Veramente Sì Sta cazzo di Mappa Non dico che è peggio Della scorsa Ma quasi Mila gatti Da bestia Da lag Da un bordello Ehi A rompere una palla Energetica 1.800 Niente Non 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 so Dispation Soda Quelli Guarda quelli Continua dietro Nel 719 Ehi Buono 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 C'è lui davanti a me Dai vecchio Questo Rompe Questo Rompe Ragazzi Quanto cazzo Muori Eh guarda Guarda Questo Guarda No ragazzi Vi giuro Sto gioco Di tanto Troppo Camper Non so Che dirvi Non so Che dirvi Troppo Camper Troppo Troppo Camper Ovviamente The best Ag Guarda Questa Ci trovo Vecchio Sono pazzo Ragazzi Oddio Buono Buono, buono Questa ragazzi va camperata Non c'evevo niente Questa è brutta brutta Questa è brutta brutta Abbiamo uno qua Da vicino a noi, un altro qua Ok, non so di noi Per il momento Ragazzi se viene sturato ci proviene andare Sono tutti e tre qua Ci credo Non ci vediamo ragazzi Che cazzo ho fatto Mamma mia Bella, 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 bella Questa è stata bellissima ragazzi Questa è stata 301 ragazzi morti Sai credo 15 Provo 15 Bella Questa è stata molto bella ragazzi Facciamoci come vi ho detto Una classificata Almeno una classificata ragazzi Almeno una classificata Almeno una classificata Almeno una la devo fare ragazzi Dominio ragazzi Dominio la odio La mappa che odio La odio La metto sempre Bella ragazzi Ma io la metto sempre la stessa Cioè Tipo, bella Si starta subito Io sono un bronzo uno Quindi ragazzi Contro le morti Io metto I cammelli Contro Però Sono una grande gradata Questa vecchia Cioè Questa è su bot E' palese Che sono bot Cioè Poi magari sono più forti di me Però Facciamo come nello scorso video Ragazzi Sono bot Sono bot Sono più forti di me Ma a me Se sono più forti di me No ragazzi Certo di me Non c'è nessuna Vecchio La donna La mia squadra fa schifo Ragazzi La mia squadra fa schifo Cioè Ragazzi La mia squadra fa vomitare Ho capito Vecchio Incontro ritardati Cioè Che cazzo Ci devo fare Non c'è nessuna Per dominio Frank Dai ragazzi Dai Non morite Per favore Non morite E muoiono Ragazzi Non morite E muoiono Ragazzi Panda Vado qua Mamma Se va Vai Vado qua Pamma Se devo recuperare Siamo a 90 Vai dai Tutti vicini Tutti vicini Ragazzi 91 Non ci credo Dai No ragazzi Mamma mia Vecchio Ti giuro A culo Questo 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 Vado a culo Ma secondo me Non è la L'app Giusta Per L'ora Ragazzi Dai Venite con una Bonus Solo perché Se siete qui Fino alla fine Non classificata Eh vecchio Asce le palle Merri Si scassa Non ci credo Non ci credo Eh Sono pazzi Non voglio Passare a questo Ci sono un fenomeno Eh ci sono un fenomeno Perché la controlla Era impossibile Cioè La ulti Devo per forza Cioè Mi spud Cioè Non posso Ragazzi Scegliere Dove devo scappare Un fenomeno Ragazzi Un fenomeno Un fenomeno Il re Ragazzi 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 Ragazzi Il re Ragazzi Ragazzi Il re Mi raccomando Iscrivetevi al canale E ti raccomando Ciao Grazie a tutti.